A Potenza c'è la Villa del Prefetto, che è passata da giardino francescano al giardino pubblico. Al pari del giardino storico San Francesco d'Assisi di Ripa Candida, anche a Potenza, in pieno centro storico, un altro giardino insiste su uno spazio francescano. Si tratta del giardino della Villa del Prefetto, che si sviluppa su un'area in forte pendio, originariamente proprietà del monastero di San Francesco. E si presenta come un ombreggiato gioco di tortuosi viali alberati, fatti di aceri, ipocastani, frassini, magnolie e cedri, con scalinate simmetriche, ad andamento ora curvilineo, ora rettilineo e terrazze panoramiche. Risale ai primi del Novecento ed è accessibile da due ingressi, uno a sinistra del palazzo del governo, l'altro dalla sottostante via Mazzini. L'ingresso originario era invece alle spalle del palazzo, in corrispondenza della gradinata ottocentesca caratterizzata dall'originale pavimentazione a mosaico. Grazie. Grazie.